Ho fatto il sito, Roberto. Tu dici come hai cominciato? Come hai detto prima? Prima di tutto io non voglio, ora parlo di me, perché ora parlo di me, no? Non dici grandi cose, come hai voluto. Io ho voluto. Sì, tu hai voluto. Io non voglio, perché lo dici a tutti quanti. Chiunque viene qua, è grande, è così, mi piace. Ho tre anni che fai blitz, non ho mai visto un imbecillo. A parte Roberto, no, che sei intelligente. Oh, ma che hai detto adesso vi presentiamo... Cioè, noi volevamo uno grande, però è arrivato questo che è un po' imbecillo. Ma ti vedo, vedo sempre uno che adesso... C'è il pericolo che se tu dici, e adesso quell'imbecillo ti chiudono la televisione. Ma no, però, manca che tu ogni voto grande, ecco, questo ha fatto una cosa che guardate proprio... Fa schifo. E negli anni sessanta era quello. Perché di questa frustrazione sempre dice uno che fa negli anni sessanta? Era gli anni in cui ero ragazzo. Vabbè, mi lascia stare, gente, sempre questo fa... Ogni volta, quando incontro il minato, non è che dici, ah, come stasera, che fai stasera? No, che facevi negli anni sessanta? Lascia dire, no! C'è un mio amico... C'è un mio amico... No, ma... No, ma pure perché... Mi lascia... Non voglio essere interrompito... C'è un mio amico che è contenta, la chiesa. Molto contenta. Non mi interrompi. Sono all'attere da tre giorni. Fammi parlare. C'è un mio amico che è felice, la chiesa. Non mi ha invitato un bambino a Caprizza. Mai, perché non mi ha domandato che faceva negli anni sessanta. Lascia stare, no! Non riesco a preparare, ma... Non riesco a preparare, ma... Non riesco a preparare. Poi si è troppo buono, tu. C'è ogni cosa che... No, si è buono perché tu Roberto è grande, ecco. Lascia stare. Lascia perdere. No, però... L'ha trovato Polanco. Per carità, bravissima, ecco. Però, come si è andata la cosa? Io, come vivi adesso? Vivo con mia moglie e due figli. Minara? No. Cinque figli. Polanco vive con... Cinque figli. Cinque figli. Poi, uno che è stato negli anni sessanta, una cosa, vive con una moglie e cinque figli. Ma che ci stai male, stra! Allora si porta a mia sorella, qua vivo con il marito e sette figli. Minara. Qua hai portato la commissione. C'è un problema. C'è un problema. La sorella non canta Diana. Ah, mia sorella è grande Diana. E poi te ne hai due figli in più. Ma ci stai. Ma ci stai.